Sapendo che contiene parole di vita eterna, qui c'è la lettura della parola che abbiamo fatto adesso e il demonio ha poco tempo, Apocalisse, dice che il demonio ha poco tempo e queste persone qui sono i credenti che loro vogliono perseverare perché sono già salvati e vogliono credere nel Signore Gesù. Ringraziamo il Signore per le persone che sono andate via e che hanno portato il messaggio e queste altre persone e vediamo se tra di voi c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare e grazie a Dio.